E' passato oltre un anno da quando il Comune di Teramo annunciò con entusiasmo l'inizio dei lavori di riqualificazione della Sala Ipogee di Piazza Garibaldi, snodo nevralgico della viabilità cittadina. Il progetto accolto con favore della cittadinanza mirava a correggere diverse problematiche che affliggevano da anni la struttura sotterranea. Le infiltrazioni d'acqua sia sulla corona esterna che all'interno della Sala Ipogee e sui percorsi pedonali sotterrani rappresentavano un serio inconveniente. L'amministrazione comunale aveva previsto una rapida conclusione dei lavori fissando come termine ultimo il mese di settembre 2023 in tempo per la riapertura delle scuole. Tuttavia il percorso di riqualificazione non è stato privo di ostacoli. Problematiche impreviste emerse durante l'esecuzione dei lavori hanno significativamente allungato le tempistiche. Ma nonostante questi ritardi le autorità locali hanno assicurato che il progetto era mai in dirittura d'arrivo. Mi sembra di vedere già ad occhio che ci sia un discreto movimento e una presa di coscienza del fatto che comunque bisogna tendere al massimo a stringere i tempi. Insomma questo mi sembra evidente. È un progetto che nella sua semplicità tra virgolette in quanto non tecnico quindi non esattamente nelle competenze viene per poterne giudicare difficoltà o elementi di semplificazione. Però è evidente che ci sono una serie di lavorazioni che si intersecano per cui i tempi tendenzialmente si dilatano. Secondo le più recenti stime la conclusione dell'opera è prevista tra settembre e ottobre di quest'anno. Gli interventi finali si concentreranno sulla risoluzione delle ultime criticità e sull'assicurare che la Sala Ipogea e Piazza Garibaldi siano pronte ad accogliere nuovamente cittadini e visitatori in condizioni ottimali. C'è una data di progetto che prevede novembre. C'è una data di speranza che probabilmente prima della riapertura delle scuole stiamo lavorando d'intesa con gli uffici direzioni lavoro e impresa per cercare di produrre il massimo sforzo per riaprire prima della riapertura delle scuole. Anche perché ridare la viabilità normale a Piazza Garibaldi sarebbe poi propedeutico a una serie di altri interventi che su quella piazza devono essere fatti per cui asfalti e sostituzione delle attuali pensiline con pensiline cosiddette intelligenti.